Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati e benvenuti a questo nuovo video dove parleremo di calcio. So che come sempre fa strano in questa circostanza, ma ho deciso di realizzare per voi questo breve contributo per segnalare alcuni giocatori che a me piacciono e che metterei nel centrocampo del Milan. Perché lo faccio? Perché spesso mi capita che qualcuno di voi molto gentilmente mi chieda ma quali sono i giocatori che tu vorresti nella metà campo? Io non sono molto avezzo a fare nomi perché credo che ci sia chi di dovere che deve fare selezione e debba scegliere i giocatori giusti per completare la nostra squadra. Ma in questa circostanza, dato che parliamo di una zona nevralgica e dato che i nomi che si fanno per il Milan non sono proprio quelli che incontrano il mio favore e poi più tardi parleremo anche di Musa perché insomma pare che il Milan sia davvero interessato a questo giovane centrocampista americano del Valencia ecco che ho deciso di proporvi quattro nomi. Questi quattro nomi sono giocatori, tre di loro abbastanza simili per caratteristiche e poi uno che è un usato sicuro che ho visto diverse volte quest'anno che devo dire la verità ma colpito soprattutto in riferimento a quello che potrebbe essere il nostro Lobotka anche per campionato di provenienza. Quindi sono tre giocatori che probabilmente conoscete più uno che probabilmente non conoscete e che adesso vi segnalo. Allora, quali sono i parametri che ho utilizzato per scegliere questi giocatori? Innanzitutto, tre su quattro hanno una discreta struttura fisica quindi comunque hanno una presenza visto che spesso abbiamo lamentato come nel nostro centrocampo non ci siano stati centimetri ecco, adesso abbiamo risolto parzialmente la questione con l'Off2Cheek ma poi soprattutto ho scelto dei giocatori che al pallone danno del tu sono dei, non voglio dire dei registi, ma sono dei giocatori moderni tranne l'ultimo, che hanno delle qualità dal punto di vista di gestione del pallone allora ve li faccio vedere subito e poi alla fine facciamo anche un confronto allora cominciamo col primo nome il primo nome è un nome insomma noto nel senso che anche nel gruppo Telegram mi era stato segnalato fra virgolette comunque mi era stato chiesto un parere su questo ragazzo e io ho detto che secondo me diventerà un eccellente giocatore e sto parlando di Samuele Ricci Samuele Ricci del Torino è un giocatore che come vedete a sinistra nel grafico delle qualità ha dei dati molto interessanti per quel che riguarda la costruzione in alto a destra, per quel che riguarda i recuperi in basso quindi anche un lavoro di aiuto in fase di non possesso e ha dei buoni dati per quel che riguarda i passaggi e anche gli assist come vedete nella heatmap di Ricci è un giocatore che si muove fondamentalmente nella zona centrale del campo con qualche movimento anche da mezzare la bisogna e è un giocatore che quest'anno ha realizzato il 90% di precisione passaggi con anche 15 passaggi chiave che sono un buon dato e poi come vedete nella tabella in alto a destra è terzo nella classifica dello scorso campionato per percentuale di passaggi riusciti su 90 minuti dietro a Lobotka e Brozovic che sono due registi quindi il primo nome che vi faccio è quello di Samuele Ricci il secondo nome che vi faccio è quello di Ezechiel Palacios centrocampista del Bayer di Leverkusen anche lui un ragazzo giovane vedete che qui cambiano un pochino le caratteristiche perché qui abbiamo soprattutto una buona parte di lavoro per quel che riguarda il recupero palla e i passaggi un po' meno per quel che riguarda la costruzione lui potrebbe essere un giocatore che unisce una buona qualità a una fase di interdizione come vedete nelle zone di movimento del giocatore la heatmap è molto simile a quella di Ricci quest'anno ha giocato 25 partite ha segnato anche 4 gol, 3 su calcio di rigore quindi anche un rigorista e ha segnato anche 2 assist la tabella a destra ve la spiego è una tabella di confronto per quel che riguarda le caratteristiche di passaggio rispetto a Samuele Ricci ad esempio il dato che balza subito all'occhio è il numero di passaggi lunghi su 90 minuti che è il dato a 3.33 contro i 2.89 di Ricci quindi un giocatore che cerca di più il lancio lungo che è una caratteristica che a noi senza Benasser andrà un po' a mancare anche il dato dei passaggi totali è un buon dato con un 81,8% di precisione passaggi nella metà campo avversaria con un 89,9% di precisione passaggi nella propria metà campo è anche un dato che rispetto a Ricci è un po' più alto però vedete il possesso palla perso per 90 minuti 12.3 contro gli 8.4 di Ricci questo è un dato che andrebbe sommato anche allo stile di gioco della squadra quindi in questo caso del Bayer Leverkusen il terzo nome che vi faccio è quello di Matteo Guendosì il centrocampista io ho trovato purtroppo solo una foto con la maglia dell'Arsenal non ne ho trovata una che mi andava bene con la maglia dell'Olimpica e Marsiglia nell'ultima stagione proprio a Parigi qui vedete proprio dal grafico delle caratteristiche come il dato aumenti sensibilmente in un pochino tutti i fondamentali quindi dal punto di vista di assist dal punto di vista di passaggi dal punto di vista di recuperi sappiamo che Guendosì ha avuto insomma qualche problema dal punto di vista caratteriale la sua avventura all'Arsenal è stata contraddistinta da alti e bassi però al Marsiglia si è ritrovato con un'ottima stagione 2 gol e 5 assist in 33 partite vedete come la sua mappa sia una mappa di grande movimento in tutto il campo anche con movimenti da mezzala lui ha giocato anche così proprio all'Arsenal dal punto di vista della tabella vedete che qui cambiano un po' le percentuali rispetto ad esempio a Palacios sempre confrontandolo con Samuele Ricci ad esempio qui abbiamo un 94% di passaggi completati nella propria metà campo un 84% nella metà campo avversaria e anche qui il passaggio lungo per 90 minuti è nettamente superiore 4.04 con una percentuale di riuscita del 75% questo è un dato che mi interessava molto perché appunto a noi manca un po' questo tipo di soluzione manca qualcuno che faccia dei cambi di gioco manca questo tipo di giocatore il quarto nome è quello di un giocatore che forse voi non conoscete o che avete visto forse di sfuggita si chiama Alex Garcia è un ragazzo di 26 anni scuola Manchester City che quest'anno ha giocato nel Girona ed è una specie di piccolo lobotka come vedete nel suo grafico il punto forte sono i passaggi e gli assist ha ottenuto una percentuale dell'82% in campionato nei passaggi corti e la sua zona di campo come vedete anche qui è un po' sparso ovunque quindi siamo molto simili da questo punto di vista i grafici a destra ci raccontano di un'ascesa per quel che riguarda la percentuale dei passaggi riusciti e anche una percentuale in aumento dei duelli vinti ecco questo potrebbe essere un po' il lobotka da andare a pescare perché anche lobotka veniva da una serie di stagioni al certavigo dove aveva fatto delle buone cose indubbiamente si vedevano le qualità poi quando è arrivato al Napoli da regista basso ha fatto veramente delle ottime cose tra l'altro lobotka ha delle statistiche molto interessanti anche per quel che riguarda proprio i duelli vinti proprio come Alex Garcia e allora facendo un confronto tra i quattro giocatori si può vedere come Guendussi sia quello più completo Palacios sia quello più battagliero pur abbinando qualità Ricci il giusto compromesso e se vogliamo invece andare proprio sulla tecnica e quindi sulla regia Alex Garcia che è un giocatore insomma di scuola spagnola e quindi di tecnica sicuramente importante le cifre che vedete sopra sono quelle del famoso sito TransferMarkt sono 20 per Samuele Ricci che tra l'altro pare abbia rinnovato con il Torino 22 per Palacios 25 per Guendussi e poi la soluzione low cost di Alex Garcia ha 10 milioni valore di TransferMarkt queste sono alcune proposte per abbinare al nostro centrocampo presenza, quantità e anche qualità di giocatori che hanno o già calcato i palcoscenici della Serie A come Samuele Ricci di giocatori che hanno calcato palcoscenici importanti come Guendussi ad esempio con la maglia dell'Arsenal giocatori che si stanno facendo un'esperienza come Palacios oppure un outsider che possa acquisire il centrocampo del Milan e portarlo dettando i tempi di gioco fondamentalmente queste sono quattro idee che mi sono venute naturalmente il punto di partenza per quel che mi riguarda è il fatto che il Milan la prossima stagione giochi con un centrocampo più possibile a tre quindi con un vertice basso e due mezzali cosa che avremmo dovuto fare con un po' più di continuità anche l'anno scorso ecco queste sono le mie idee per il mercato del Milan tutte a cifre tra l'altro insomma più o meno intorno a quelle dei giocatori di cui si parla quindi dall'off to cheek che parla insomma sia un 16 più 4 quindi 16 milioni più 4 di bonus un Musa che ha un prezzo intorno ai 20 milioni ecco siamo lì intorno ma è chiaro che dovendo costruire un intero reparto io mi aspetto che roba buona arrivi e arrivino giocatori di qualità adesso attendo i vostri commenti naturalmente qui sotto fatemi sapere che cosa ne pensate grazie e alla prossima grazie a tutti